fortnite crash di continuo ovviamente quando vai ad avviare fortnite crash quando apri epic games seme fortnite crash oppure quando provi ad avviare una partita crash lo stesso quindi quali sono questi problemi il problema più grande sono gli errori che si salva nella cartella di local app data e nelle cache di fortnite anche se non funziona tutta questa roba riguardo alle crash basta fare una verifica oppure disinstallando epic games oppure se non hai niente sul pc formatta l'intero computer reinstalla epic games reinstalla i tuoi driver e risolverai i tuoi problemi di fortnite però se non vuoi fare questo andiamo sul tasto windows più r esegui quindi esegui lo trovi qua per cento app data per cento fai ok chiudiamo epic games per sicurezza vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di fortnite fortnite game save config crash report client ed eccola qua crash report client eccola qua quello che ti consiglio di fare è eliminare questa cartella e poi fare una verifica al gioco ora una volta fatto su fortnite andiamo su epic games launcher save web cache trattino basso 44 30 cancella crash report client cancella e torniamo indietro una volta fatto si apre di nuovo epic games mostra altre opzioni proprietà compatibilità puoi eseguire il programma in modalità compatibilità su qualsiasi versione di windows proviamo prima con windows vista disabilita ottimizzazione schermo intero esegui questo programma come amministratori modifiche impostazioni dpi elevati sistema avanzato esegue la verità del comportamento di ridimensionamento dpi elevati e fai ok facciamo applica e facciamo ok eseguiamo epic games come amministratore eccolo qua libreria se non dovesse andare andiamo direttamente gioca qui gioca la cartella di fortnite tre puntini opzioni opzioni rimuove la texture ad alta risoluzione e la scelte direct x 12 e fai applica tre puntini gestisci verifica i file di fortnite se non dovesse funzionare così fortnite e continua a cresciare ci sono i pacchetti di risorse da installare su windows ovviamente anche epic games ci consiglia di come posso reinstallare i pacchetti microsoft c++ per risolvere i problemi di fortnite clicchiamo su questo link ovviamente ti ho lasciato in descrizione direttamente questo link e andiamo a scaricare direttamente in questo articolo visual studio 2015 17 17 19 e 22 arm 64 per 86 e per il 64 ovviamente per altri problemi puoi sempre andare su impostazioni quindi vai sotto account impostazioni scendi fino a giù fino a trovare assistenza ti porterà così sull'assistenza e qui potrai cercare il tuo errore di fortnite quindi supporto launcher codice errori account epic anche se per esempio hai si è stato bannato da fortnite e poi da direttamente account epic e qui potrai trovare così la tua soluzione quindi andiamo adesso ad installare questi tre driver installo tutti e tre eseguo come amministratore faccio si accetto i termini e le condizioni di licenza installa installo anche quest'altro installa e installo pure quest'altro e faccio installa questo lo chiudo perché non è compatibile con il mio processore proviamo questi due questo lo sta installando installazione completata installazione completata e facciamo anche chiudi una volta fatto riavvia il tuo sistema ovviamente se non dovesse funzionare con questi metodi io ho una playlist piena di tutorial su fortnite su come risolvere i problemi di lag crash aumentare gli fps risolvere i suoi problemi problemi riguardo anche al ban e soprattutto anche al problema della memoria video quindi che significa riguardo alla memoria video che quando apri fortnite dice memoria video esaurita e io in quella playlist ho un tutorial proprio per risolvere il suo problema quindi se hai altri problemi commenta sotto al video io lavorerò a un'altra guida con altri metodi quindi se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao